Santirocco regala i tre punti a Luco e condanna il Vasto Marina alla seconda sconfitta consecutiva. Mandiamo per ordine, i padroni di casa devono fare ancora meno di Cernans e Capitan Benedetti, sostituiti rispettivamente da Ciancalini e Gallier, con D'Antonio che gioca a mezzala e Letto che parte in avanti dal primo nel trio d'attacco. Negli ospiti tutti presenti, tranne Cinquegrana fuori per infortunio, Mister Giordani sceglie il solito collaudato 4-2-3-1. Gli ospiti partono forti, all'ottavo vanno vicinissimo al gol con Margagliotti, al sedicesimo sempre bianco-azzurri pericolosi, Santirocco si gira in un fazzoletto di terra e calcia di prima intenzione. La risposta del Vasto Marina arriva al ventinovesimo con una conclusione al volo di Gallier che viene deviata in angolo. Minuto 39, i Granata sfiorano il gol del vantaggio, Cesario Pennella su punizione, la palla scheggia la traversa, gesto tecnico che merita di essere rivisto al rallenti. E questa l'ultima azione del primo tempo che va in archivio sullo 0-0 dopo una prima parte di gara molto combattuta dal punto di vista agonistico. Nella ripresa i padroni di casa usufruiscono di un calcio di punizione al minuto 7, Cesario calcia all'estremo ospite, respinge al diciassettesimo manovra avvolgente dei Marsicani che porta Santirocco alla conclusione e Marconato si oppone. La partita stenta a decollare con tanti falli e a spezzettare il gioco. Alla trentasesimo conclusione da fuori di Di Gennaro con la sfera che esce non di molto. Alla trentottesimo arriva il gol che sblocca la partita. Santirocco scatta in profondità e conclude. Marconato ci mette una pezza ma non trattiene. Il numero 9 raccoglie e batte a rete per l'1-0. Da qui a fine gara non succede altro. I bianco-azzurri cinici e ordinati fanno festa contro una vasto marina che incassa la terza sconfitta stagionale e che ha perso la strada dei tre punti nelle ultime due uscite di campionato. Mister Giordani, tre punti importanti contro il vasto marina. Una squadra ordinata, quest'oggi la sua, che ha fatto bottino pieno. Sì, diciamo abbiamo approcciato bene la partita. Eravamo venuti qua sapendo di giocare contro una buonissima squadra che era la rivelazione del campionato che stava in uno stato di grazia, un ottimo stato di grazia. Quindi ho detto ai ragazzi di stare molto concentrati, compatti e aggressivi perché era l'unico modo per portare i punti. Mister Cesario, seconda sconfitta consecutiva per il suo vasto marina, cosa succede? Succede che io quando dicevo che erano tutti punti importanti per i momenti bui, questo è uno di quei momenti, la squadra ci ha provato anche oggi, abbiamo fatto secondo me una buona partita, avevamo delle defezioni importanti ma chi è sceso in campo ha fatto il suo dovere, era una partita da pareggio. Abbiamo fatto un errore, l'abbiamo perso a prezzo carissimo. Ecco, è come se la squadra senza alcuni giocatori ha perso un po' di sicurezza. Ma noi sapevamo che abbiamo degli equilibri molto sottili, ovviamente risentiamo di quando c'è qualche assenza, però andiamo avanti, io non faccio drammi, non facciamo drammi, le sconfitte fanno male soprattutto in casa, però ci fanno capire ogni volta che dobbiamo lavorare sempre di più. Questa è una categoria troppo difficile e per molti è il primo anno, quindi è normale pagare lo scotto. A volte si riesce a coprire certe lacune, soprattutto d'esperienza, a volte no, però io sono tranquillo, faccio i complimenti a Luco che ha fatto la sua partita e è venuto qui e l'ha giocata in maniera intelligente. All'ultimo porta a casa i tre punti, complimenti a Luco. Grazie. Grazie. Grazie.